è Gina la Gallina. Ma che gioco è ? C'è una grande novità, sta gallina cosa fa fa le uova in quantità ma le mata dalle garr. Se le rubi l'uovo, Gina la Gallina strilla e si dispera e fa così. Prendi al volo le uova di Gina la Gallina ma non farsi peccare se non lei sta ratta da pazza. Gina la Gallina, Gina la Gallina Giochi preziosi, coccodè